Sul divanetto dell'innovazione ho il piacere di presentarvi l'autrice dell'Italia che innova, benvenuta Giorgia Petrini. Giorgia, quest'Italia è veramente un sistema paese che innova, sa innovare, quali sono le storie che ti hanno più colpito per realizzare il libro? L'esperienza del libro è un'esperienza mia, personale, ho preso io l'iniziativa di selezionare un po' di profili italiani che avessero certe caratteristiche quindi che fossero stati innovatori prima dei 40 anni, che fossero giovani in posizione di leadership, insomma hanno tutti una serie di criteri che sono stati scelti a priori per decidere il contenuto del libro. Sul tema invece dell'Italia che innova è un tema che va sfaccettato a doppia identità nel senso che in Italia innovazione si fa, si fa dal punto di vista molto spesso di iniziativa personale, cioè sono le singole persone, singoli individui, singoli imprenditori che prendono l'iniziativa di portare avanti innovazione e fanno grandi cose, è un pochino più complicato l'aspetto di innovazione paese, quindi quando invece si parla poi magari di pubblica amministrazione, di grandi aziende, di strutture dove in realtà c'è un appesantimento anche industriale che è un po' più noto e sentito in termini sociali, è più difficile parlare di innovazione per due motivi fondamentalmente, uno perché è meno percepita dai cittadini che banalmente la mettono in pratica e ne devono usufruire di questa innovazione e due perché sono contesti molto più complicati, molto più lunghi e mentre una volta a lungo termine pagava molto di più adesso arrivi veloce, chiaro, cristallino e subito oppure resti indietro quindi siamo in un momento transitorio molto particolare secondo me in cui questo paese deve trovare il coraggio di dare spazio a chi realmente sa fare innovazione, non avendo paura di mettere in pratica il merito che sostiene di voler attuare quindi facendolo veramente e non facendone solamente un baluardo di marketing in questo senso si può riuscire a farlo, però siamo ancora in un limbo a metà secondo me Quindi una realtà molto complessa, una fotografia complessa di questa realtà se noi volessi una scala da 1 a 10 dare un voto a questo sistema paese, qual è il numero che ti viene in mente? Mazza, che brutta domanda questa, da 1 a 10 non lo so No, perché voglio dire, se dovessi salvare la faccia ti direi 7,5 il voto quello che è più o meno, dovendolo dire, nella realtà non lo so, mi immagino un 5 questo è un paese in cui si parla ancora del wifi e non si riesce a fare nulla in cui ancora litighiamo per le metropolitane, facciamo i referendum sul nucleare e poi non siamo capaci a mettere in fila quattro buste della mondezza insomma è un paese complicato in questo senso quindi veramente un voto collettivo non riusciresti mai a darlo in termini di sistema e di socialità di vissuto proprio dell'Italia anche perché l'italiano, bene o male, è quello che un economista di un po' di tempo fa ha detto quando diceva che la raccoglie è quello che semina l'italiano sta un po' in poltrona, voglio dire poi si diverte a fare lo sciopero, a criticare, a dire tutto male, tutta una schifezza, però non è che più di tanto si sforza c'è la monnezza, però il cassonetto lo rivoltiamo non è che ci rimbocchiamo le maniche per prendere la spazzatura da soli e portarlo in un certo senso a fare la raccolta differenziata quindi è difficile dare un giudizio, un voto diciamo così collettivo è più facile dire che se le persone che cercano di darsi tanto da fare e parte del lavoro che è stato fatto questi due giorni in un certo senso ne è anche una prova, una dimostrazione che in diversi punti di questo paese le cose si cercano di fare a vario titolo e in vari contesti anche se vengono sempre dall'iniziativa personale vanno un attimo incastrate tra di loro e bisogna cercare di avere la forza di farlo a prescindere dal contesto che ci circonda perché quella è un'altra difficoltà di questo paese dove purtroppo la politica è quella che è dove purtroppo il sistema industriale è quello che è e dove purtroppo queste due cose sono talmente legate tra di loro che gli interessi del potere sono superiori a quelli dei cittadini che poveracci vivono la vita di tutti i giorni e quindi lì si gioca un po' la partita bisogna andare oltre questo Torniamo un attimo a questo momento di queste due giorni qual è l'elemento, diciamo, innanzitutto per te qual è l'atmosfera che si respira qui a Confindustria Salerno e qual è l'elemento che ti ha più colpito negli incontri fatti di social networking nel tuo relazionarti anche a persone nuove che diciamo hai avuto occasione di incontrare qui? Ma allora intanto in generale non... io eviterei di fare la riflessione che ho sentito più diffusa ma questa è anche a Roma che mi hanno detto tutti ma che ci vai a fare? Eh io che ci vado a fare perché comunque è Salerno quindi siamo un po' verso il sud non troppo ma verso il sud quindi già la cosa mi piace e poi perché sono quei contesti dove sai un conto è che fa Milano, Torino, il Politecnico in città dove comunque ci sono più risorse più interessi, più attitudini a questo tipo di atteggiamento un conto che avvengano in zone come possono essere la Basilicata, la Campania tutte quelle regioni in cui è più difficile farlo da questo punto di vista lo stupore è aggiuntivo perché avviene in un contesto come quello di Confindustria che si esprime a vario titolo in diverse territoriali mai nello stesso modo quindi magari la Confindustria di Salerno fa delle iniziative che la Confindustria di Roma per dire non fa piuttosto che il contrario quindi anche questo è un fattore aggiuntivo interessante e poi sicuramente la varietà cioè la varietà dei progetti che sono stati presentati perché oggi uno degli errori più comuni che si fa quando si parla di innovazione è pensare sempre all'innovazione tecnologica alle nuove tecnologie Facebook è un'innovazione che per chi conosce l'innovazione sa che Facebook non è un'innovazione non è per definizione quello il modo per tentare di definire l'innovazione no, l'innovazione deve essere una cosa universalmente percepita quindi il primo atteggiamento nei confronti dell'innovazione deve essere quello di proporre anche idee aziende e soluzioni che siano universalmente percepibili che possono andare dall'invenzione della lavatrice alla Playstation voglio dire però deve essere una cosa che arriva a casa tua che tu riesci a usare che ti migliora la vita che ti semplifica la quotidianità che ti aiuta nelle tue cose di tutti i giorni e questa è una cosa che qui più o meno insomma adesso me ne sto perdendo un paio però mi sembra di aver visto anche nel tipo di varietà delle cose che sono state proposte un po' meno forse con un po' meno pregi al modo di proporle piuttosto che alla scelta del contenuto alla capacità di sintesi e di analisi però nell'insieme diciamo mi piace questo approccio insomma lo vedo ben fatto ben costruito e ben finalizzato bene Giorgia allora tu fra poco andrai a fare il tuo speech nella sala a fianco quindi mi posso permettere di dare giudizi a tutto a fare il bilancio di queste due giorni anche in maniera più incisiva ti ringrazio di essere stata una delle protagoniste di questa chiacchiera sull'innovazione sul divanetto color verde scuro verde bosco verde bottiglia che ci ha accompagnato in queste due giorni della quinta edizione del premio Best Practice grazie grazie a voi e un augurio per l'imprenditore? imprenditore datti da fare qua imprenditore datti da fare col punto esclavativo finale direi di sì benissimo grazie Giorgia Petrini e ci rivediamo fra poco con il prossimo protagonista di questo pomeriggio